Dare la possibilità a tutti di votare, autorizzare chi ha delle limitazioni fisiche ad essere accompagnato da un familiare, non perdersi lunghi discorsi propagandistici, ma soprattutto non fare campagna elettorale. Se i soci del Centro Sociale Anziani di Sulmona hanno fatto recapitare una lettera al presidente Giacomo Spinosa e per conoscenza al sindaco Anna Maria Casini, a pochi giorni dalle elezioni per il rinnovo delle cariche fissate per il 16 novembre, non si direbbe ma anche il centro dell'ex caserma pace in fibrillazione per l'appuntamento con l'urna. Il clima che si respira è tutt'altro che tranquillo. A ridosso del voto cominciano a venire fuori le prime frizioni e i sei della lettera non le mandano a dire. Tutti devono avere la possibilità di scegliere da chi essere rappresentati nei prossimi quattro anni, intervengono i sei chiedendo di estendere il diritto di voto anche a chi è tesserato da poco tempo. La raccomandazione è quella di evitare lunghi discorsi propagandistici nell'ultimo pranzo del 12 novembre. Altrimenti in democrazia dovresti dare pari opportunità ad altri candidati, si legge nella lettera sperita a Spinosa. Ma noi non vogliamo questo perché i soci partecipano al pranzo solo per trascorrere una giornata in compagnia e allegria. Nel finale a sorpresa si direi in ballo anche la nostra emittente. Non vediamo l'utilità, visto che tu stai facendo campagne elettorali a 360 gradi da mesi, porta a porta, sui social e con l'aiuto di Onda TV, screditando in qualsiasi modo le nostre candidature, scrivono i sei a Spinosa. A differenza di quanto dichiarato, la nostra emittente televisiva ha chiesto spiegazioni a Spinosa sulle modalità di voto che porteranno al rinnovo delle cariche al centro anziani. Fra qualche giorno sarà sempre il presidente oscente, ancora in carica, a tracciare un bilancio del mandato che sta per concludersi. Non è certamente Onda TV a indicare ai soci quale preferenza esprimere o spingere per l'uno o l'altro candidato. Inchiosta alla lettera i sei invitano Spinosa a una riflessione, ma alla luce di quanto scritto forse sarebbe opportuno che gli scriventi riflettessero ad esempio sulla differenza che sussiste fra l'informazione e la propaganda. La prima appartiene da oltre 30 anni a questa emittente televisiva, l'altra non ci riguarda. Grazie. Grazie.